Mercato Juve, annuncio bomba, tifosi bianconeri in estasi Si preannunciano mesi di fuoco in vista del prossimo calciomercato della Juventus. Come vedremo più avanti infatti, sembrerebbe proprio che molte cose saranno destinate a cambiare, nei pieni della dirigenza bianconera ci sarebbe una vera e propria rifondazione profonda e Agnelli avrebbe già ideato un nuovo progetto, un piano da ben 245 milioni di euro per una maxi-rivoluzione. Di questo parleremo più nel dettaglio a breve, ma ora concentriamoci sulle ultime news arrivate proprio in queste ore che parlano di alcune ipotesi veramente clamorose. Nel ribaltone totale che ci sarebbe allorizzonte infatti potrebbe rientrare anche Massimiliano Allegri, che non sarebbe affatto sicuro della sua permanenza sulla panchina della Juve. Ed ecco infatti che sono rispuntate alcune importantissime candidature per sostituirlo. Anzi, ci sarebbe già un nome in pole position veramente da capogiro. A lanciare l'indiscrezione bomba è stato il giornalista del giornale Luigi Guelpa e i microfoni di Radio CRC, Pep Guardiola ha un accordo con la Juventus, confermo quanto ho già detto in passato. La notizia ha fatto ovviamente molto clamore ma la confermo, Guardiola e i bianconeri hanno già un accordo per la prossima stagione. Un annuncio in diretta semplicemente clamoroso che di certo farà sognare in grande i tifosi del vecchia signora. Ma non è ancora tutto perché, ovviamente, con Guardiola in panchina cambierebbero anche molte strategie di calciomercato. L'attuale tecnico del Manchester City infatti avrebbe pronta già una serie di nomi che vorrebbe portare con sé a Torino, alcuni suoi pupilli di livello mondiale. Ecco dunque la lista della spesa di Guardiola e alla fine, come promesso, anche il clamoroso nuovo progetto di mercato di Agnelli da 245 milioni. . Punto uno grado, iniziamo questa raffecca di obiettivi da un primo nome da urlo, quello di Koulibaly del Napoli. Lo stesso Guelpa infatti ha svelato anche un altro retroscena sempre a Radio CRC, Guardiola alla Juve sì, ma vi dico di più, l'affare potrebbe avere delle conseguenze anche sul Napoli. Mi risulta infatti anche che la Juventus andrà all'assalto di Caridou Koulibaly. Si tratta di un profilo che interessa particolarmente ai bianconeri. E con Pepin panchina, l'affare potrebbe veramente diventare realtà, ma questo era solo il primo big nel mirino. . Due grado, altro nome stellare che tanto piace sia alla Juventus che chiaramente a Guardiola e l'Ero Insane, attaccante esterno del Manchester City classe 96 e più volte accostato ai bianconeri. . Tre grado, occhio poi a Thiago Alcantara. Anche lo spagnolo è finito più volte nei discorsi di mercato della Juventus ed è uno dei pupilli di Pep, che lo ha allenato al Barcellona e lo ha voluto fortemente anche al Bayern Monaco. . Quattro grado, discorso simile anche per il Kai Gundogan, centrocampista tedesco recentemente accostato alla Juve. Sotto la guida di Guardiola è tornato a splendere in cabina di regia al Manchester City, anche lui è un pallino del tecnico spagnolo. . Sempre in queste ore però sono arrivate anche altre news di calciomercato decisamente grosse in casa bianconera. Come accennato in precedenza infatti, la dirigenza bianconera starebbe preparando un vero e proprio ribaltone totale in vista della prossima stagione. .